San Michele Arcangelo a Scegliana Satana vuole allontanare l'umanità da Dio, attenti alle sue menzogne. Nel crepuscolo tetro di un mondo avvolto dall'incertezza, un sinistro velo di preoccupazione si dipana nell'aria, svelando contorni inquietanti di un destino incerto. L'ombra dell'ignoto si estende come un mantello freddo, mentre l'umanità è avvolta da una tensione palpabile, consapevole della minaccia imminente che si insinua nei recessi della sua esistenza. Un sibilo di inquietudine risuona nel silenzio, anticipando il susseguirsi di eventi sinistri che si preparano a scatenarsi. Nelle pieghe oscure del destino il futuro si profila con contorni minacciosi. Leggiamo il messaggio. Amati dal Signore, preparate i vostri cuori, continuate a vegliare e a pregare senza sosta. Continuate a pregare per la Divina Misericordia che frena la distruzione della guerra. Pentitevi e siate purificati da questa effusione di misericordia divina che nostro Signore Salvatore stende a voi ora. Satana vuole allontanare l'umanità dalle benedizioni del Signore affinché la sua corruzione possa invadere i loro cuori. Venite sotto il manto stellato di nostra Madre e rifugiatevi nei cuori santi, dove fluiscono grazia e misericordia. Siete pronti per molte conversioni che saranno vulnerabili alle menzogne di Satana che portano molti fuori strada, facendogli adorare la sua falsa luce di abominio che diventerà una religione unica mondiale. La Terra continua a travagliarsi in reazione agli elementi che sono diventati instabili, causando l'intensificarsi di terremoti ed eruzioni vulcaniche. Le tempeste si intensificheranno causando grandi inondazioni e frane massicce. I confini della protezione che il Sacro Cuore di Gesù Cristo fornisce circondano i Suoi amati. Con la mia spada sguenata sono pronto, insieme a moltitudini di angeli, a difendervi dalla malvagità e dalle insidie del diavolo, i cui giorni sono pochi. Così dice il vostro Vigile Difensore. Così dice il vostro Vigile Difensore.